salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi andremo ad attivare l'inclinazione dello specchietto destro in retromarcia questo cosa ci aiuta ci aiuta che il momento in cui noi andiamo a parcheggiare la macchina e andremo a mettere la retromarcia lo specchietto si inclinerà e ci permetterà di guardare il marciapiede o anche il circhio così da non urtare vicino al marciapiede per fare questa codifica qua come sempre abbiamo bisogno del nostro vcds collegato alla macchina tramite il cavo vag questa codifica qua è in due fasi dobbiamo prima andare in una centralina della centrale 52 a porta del passeggero e poi nella 09 eseguiamo la codifica come sempre io vi consiglio di andare a scannerizzare tutte le nostre centraline cioè andiamo a selezionare la macchina adesso parliamo di un audi a1 8x selezioniamo andiamo a fare inizia iniziare e andiamo a scannerizzare tutte le centraline in questo caso già l'ho fatto prima così da evitare che le video altrimenti diventano un po troppo lungo e anche un po troppo noioso sinceramente allora noi che andiamo a fare una volta fatta tutta la scansione tutte le centraline andiamo a cancellare poi eventualmente guasti o errore o problemi vari e poi dopo di che confermiamo come sempre e usciamo chiudiamo andiamo in selezionare andiamo come dicevo nella 52 porta anteriore destra questa qua aspettiamo che legga tutta la centralina andiamo in codifica lunga perfetto qua nella 0 termine codifica lunga e andiamo in byte 4 questo qua andiamo ad attivare il bit 3 e 2 2 e 3 andiamo a fare selezioniamo questa questa casella è l'altra casella che inizia per il bit 2 bit 3 come ho fatto lì adesso usciamo e confermiamo la codifica abbiamo appena effettuato qua ci dice noi stiamo andando a modificare due caselle quant'altro tutto questo qua andiamo ad attivare andiamo a selezione si codifica accettata perfetto perfetto usciamo da qua e andiamo in un'altra centralina come dicevi fatte in due due codifiche porta anteriore destra quindi la sarebbe la centralina 52 e poi la 09 nella 09 andiamo sempre in codifica 07 codifica lunga e andiamo nel byte 4 questo qua perfetto in questo caso dovremmo andare a selezionare la casella numero 3 che in questo caso non appare vedete ci manca la casella 03 noi andiamo a modifica direttamente il codice dell'interno della sua casella andiamo a selezione a 8 cancelliamo e mettiamo invece è 8 perfetto una volta fatto ciò confermiamo con il tasto in via vi faccio dire che adesso si andrà a modificare anche questo questo binario qua da 10 10 1000 andrà a far diventare 11 10 1000 confermiamo perfetto perfetto dire 11 10 1000 come sempre nuovamente usciamo confermiamo anche questa questa codifica appena effettuata vedete codifica accettata ok perfetto adesso il momento in cui io entriamo a mettere a innestare la retromarcia automaticamente si inclinerà lo specchietto verso il basso però per effettuare per comunque per attivare definitivamente questa codifica qua dovremmo andare a selezionare questo pomerino qua vedete qua degli specchietti sul lato destro sarebbe lato di qua perfetto sullo specchietto destro perché nel momento in cui noi lo mettiamo o centrale o a sinistra la funzione non sarà attiva o comunque noi non ci interessa andare ad abbassare lo specchietto lo mettiamo a sinistra ci interessa andare ad abbassare lo specchietto lo mettiamo a destra andiamo ad innestare la retromarcia perfetto e si abbassa lo specchietto vedete così da permettere a vedere il marciapiede o qualsiasi ostacolo che è posto sotto a terra diciamo vedete anche qua è uscita la rappresentazione grafica degli specchi del senso di parcheggio nel momento in cui noi andiamo a togliere la retromarcia non si rimetterà al suo posto perché perché siamo fermi nel momento in cui noi adesso andremo a camminare quindi superiamo i 15 km orari si riposizionerà nuovamente in posizioni originali o anche basta spegnere il quadro o anche possiamo andare a nuovamente a metterlo su qua centrale e si riposiziona nuovamente adesso vi faccio vedere manualmente vedete lo specchietto giro la rotellina dei comandi degli specchietti guardate si riposiziona nuovamente originale ok una volta fatto ciò uscita dalle centraline perfetto e la codifica è stata attiva vi ripeto a noi non ci serve che si abbassa lo specchietto basta mettere la monopolina degli specchietti o centrata o sullo specchietto sinistra così che non si abbassa lo specchietto in modo in cui invece ci serve che si abbassa lo specchietto una monopolina questa qua posta al nostro lato la dobbiamo mettere sul lato destro mettendola sul lato destro attiveremo questa funzione e quindi nel momento in cui ne andremo a mettere la retroparcia si abbassa lo specchietto vedete perfetto ok ragazzi con questo è tutto spero che il video vi sia piaciuto e comunque vi sia stato utile iscrivetevi al canale condividete il video e attivate la campanella da essere sempre attivi o comunque ad avere sempre una nuova notifica per i miei nuovi video commentate qualsiasi cosa che vi possa essere utile e al prossimo video ciao ragazzi